Idealmente ragazzi sono sette giorni e una settimana che sono uscita dal grande fratello, sembra che è una vita, sembra che sono tipo tre mesi che sono fuori, non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi, non ce la faccio più, sono stanchissima, sono distrutta, morta, vi giuro che ho bisogno di dormire, non lo so quante ore ho dormito, forse otto ore, tre giorni, pochissimo, pochissimo, da una parte all'altra, da Roma, Milano, Milano, Verona, no, Roma, Verona, Milano, Milano, Verona, Verona, Marche, Marche, un altro posto, da lì Roma, adesso Verona, dopo torniamo a Roma, buh, ce la faccio. Ora l'ho con il spagnolo e quello che diceva Dani, che lo scriveva su Twitter, è vero, tipo, ho avuto la febbre, in più ho la tosse, non riesco a dormire, tipo ogni minuto mi viene una tosse esagerata, sono debole, mi fa male tutto il corpo, guarda, 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 perché mi famiglia era di questo, vi giuro che ho pianto, non sapete quanto, dello stres che ho, sono stanchissima ragazzi, no, sono stanchissima ragazzi, no, sono stanchissima, pio, e ora in spagnolo,